Proseguono spediti i lavori alla rotonda di via Madonna di Fatima a Pagani. Questa mattina la ditta appaltatrice, vertici provinciali e quelli comunali si sono portati sul posto per un primo briefing sui lavori. Una rotonda che servirà a snellire sia il traffico che a mantenere alta la sicurezza del posto, spesso teatro di spaventosi incidenti. Questo era un lavoro iniziato dal sottoscritto quando era consigliere provinciale. E' bloccato nel tempo da parte degli enti che purtroppo da Enel e altri enti non si è potuto continuare. Adesso finalmente si è sbloccato il tutto. Ringrazio l'ingegnere Ranese insieme al presidente Estrianese che stiamo concretizzando finalmente questa rotatoria in una parte importante, la rotatoria della Cappelluzza, quindi in via Madonna di Fatima, via Tavorano. Quindi siamo nella zona proprio della rurale, però questa è una zona in espansione. Ci sono tante attività, ci sono tanti cittadini che ci abitano e quindi mettere in sicurezza questo incrocio in maniera stabile per noi era un obiettivo. Lo stiamo facendo, credo che da qualche giorno si vedrà proprio il lavoro completo e questa è una grande soddisfazione da parte mia perché ci ho creduto, l'ho voluta e quindi adesso ci stiamo riuscendo.